il controllo non scontato del sottomare Bergauders sul perimetro aspetta di capire cosa fanno i compagni nessuno si smarca si mette in proprio no, guarda Bucci e si è liberato tutto solo Barbera aia un match di Bergauders non sanzionare Bergauders la volta Marte metto i ritmi altissimi del match bellissimo per Gerbic questo Todorovic serve ancora Bergauders che ci provava i 6.75 e la finaggia dall'altra parte penetrazione scarico sull'estero per Bergauders gira su se stesso sul perno e va a segnare non c'è quella carica bonissima di impegno Bergauders serve in love ancora Gerbic va a segnare e recupera la palla Bucci Bucci per Sandal che ci provava lontanissima e va a segnare Bergauders Bergauders scusami d'altra parte per adesso Bergauders che è di Ryan Bucci basta la maniera a campo adesso scusami per Bergauders subisce il pallo e segna anche Kenestro si 5 shot di conseguire l'orsa Barciona che ha avuto negli anni delle ambizie ben diverse ricordiamo una cosa molto particolare nell'unica vittoria 5-19 del punteggio un altro contributo fondamentale di Garelli al rimbalzo offensivo un sacco di punti da seconda opportunità bravissima 3 punti ha dato un po' di spazio questa volta ebbe Buderele Bicius a realizzare altri due punti quindi 14 Palermo 10 Barcellona tiro da 3 l'azione di attacco con Bruno che serve adesso ancora il numero 13 del Palermo che cerca di concludere dalla distanza l'azione Totorovic Girbic Bancu e ancora la tripla cerca un compagno dalla distanza Caronna che riporta Palermo a più il giocatore di Barcellona quindi prova a realizzare poi scarica per Bergauras che mette la tripla recupera allora Bucci va da Bergauras Bergauras chiama un blocco che però non arriva però poi arriva due punti dall'altra parte subito cambio di fronte per Bergauras vedremo se tremeranno anche nel secondo non tremano nel sembalzo Alberione che era andato a conquistare in un primo momento il rimbalzo dall'altra parte Bergauras fa tutto il campo appoggia a semplice riparte l'orsa con Bergauras Bergauras serve Golubovic Golubovic che punti importantissimi per un Milazzo che era fermo da un po' riporta i suoi a un passaggio a un possesso solo di distanza dall'altra parte tenta di Radan mentre Bergauras si accende a tirare il primo dei due nel secondo oppure no non trema nel secondo palla dentro il tredicesimo punto personale più dodici per Milazzo palla in mano a Bergauras Bergauras che si alza a piedi a terra da tre poi cede per Bergauras che tutto solo sfrutta lo spazio uno secondi alla fine di questo terzo quarto che sta scorrendo via abbastanza velocemente Bergauras mette dentro per l'Orsa palla che si arrampica mette Bucci serve Bergauras Bergauras che prende la linea di fondo secondo libero per lui che è bravissimo Golubovic a strappare ancora Bergauras che va con la giocatona Barcellona Bergauras va dalla lunetta a poggiare due punti facili da sotto canestro esce dalla lotta vincente Bergauras Bergauras piedi a terra tre punti solo ferro per lui Golubovic conquista questo rimbalzo vada Bergauras Bergauras sfida Sindoni lo supera appoggiare tiro libero supplementare per Bergauras Michael Scredi che resiste alla pressione non riesce a depositare questi due punti dall'altra parte si alza da tre punti Bargauras